Senta, una domanda sui giovani, una domanda più da comunicazione che tecnica, se vuole rispondere, se se la sente. Fare uno spot pubblicitario rivolto ai giovani siciliani utilizzando i pentichie che dicono ho sbagliato, non seguire la mia strada, potrebbe servire secondo lei? O è bislacca come idea? Ho sbagliato nel senso come mafioso, non come collaboratore. Sì, come mafioso. Guardi, io credo molto all'articolo 27 della Costituzione che servisce la funzione rieducativa della pena, quindi tutto ciò che può significare atteggiamento esterno di chi ha fatto degli sbagli, di comunicare all'esterno, di non seguire lo stesso percorso non è un fatto assolutamente negativo, anzi può avere un valore positivo.